Il nostro lavoro è pieno di imprevisti e di cattive interpretazioni. Spessissimo sono nostre, ancora di più sono di altri. Vi raccontiamo la vicenda della Poliservice, perché noi dall'albo pretorio dell'Unione dei Comuni apprendiamo che la Poliservice ha ingiunto l'ente ad un pagamento di oltre 700 mila euro, un dato che al momento ci lascia perplessi e sul quale continuiamo, ripeto, a leggere sull'albo pretorio. Correttezza vuole che, letta bene la notizia, ci si metta in contatto con i vertici della Poliservice. E allora proviamo a parlare innanzitutto con il Presidente Antelli, che non risponde, e subito dopo con il Direttore Ceci, che risponde, non soltanto risponde, ma è anche molto cortese nel riferirci che in fondo quell'atto è un atto tecnico. Certo che è un atto tecnico. Ci mancherebbe l'Unione dei Comuni, deve dei soldi e gli altri per tutelare il loro credito. È giusto che facciano le azioni che hanno fatto. Non c'è niente di strano. Però siccome gli atti sappiamo leggerli, caro Presidente Antelli, allora nel leggere gli atti abbiamo letto chi era presente alla votazione di ricorrere alla sua ingiunzione e chi non era presente. Se proprio c'è qualcosa che evidentemente va non interpretato, ma può anche essere omesso, e noi abbiamo ritenuto opportuno che questo non andava fatto, abbiamo aggiunto chi aveva votato il ricorso alla sua ingiunzione, non di Supergei, ma della Poliservice, e chi non lo aveva fatto. Se poi a non farlo siano stati il Comune di Nereto, il Comune di Corropoli e il Comune di Sant'Egidio, certamente colpa non è nostra. Noi lo abbiamo raccontato e ne abbiamo fatto corretta menzione. Credo che tutto questo rientri nell'assoluta normalità. Se dall'altra parte il Presidente della Poliservice non se la prenda dicendoci al telefono, ed è stato lui stavolta a chiamarci, che ci abbiamo ricamato sopra. Non è così. Non abbiamo ricamato sopra ad una ingiunzione che lei ha fatto all'Unione dei Comuni, non ci abbiamo ricamato sopra nel non ascoltarvi perché vi abbiamo ascoltato, non ci abbiamo ricamato sopra nel dire chi non ha votato il ricorso alla sua ingiunzione, caro Presidente Antelli. Non certamente all'ingiunzione nostra nei suoi confronti o nei confronti dell'Unione dei Comuni. Non comprendiamo, sinceramente non comprendiamo perché lei abbia letto in maniera sbagliata questo nostro servizio, mentre comprendiamo molto di più il fatto che a seguito del nostro servizio tutti gli organi di informazione, dai siti che lei leggerà ai giornali che lei o il suo ufficio stampa leggeranno, hanno riportato la notizia. Certo c'è chi lo ha fatto prima e c'è chi lo ha fatto per ultimo, però l'importante è che sia stato fatto. E se tutti i giornalisti hanno ritenuto opportuno che quel servizio, evidentemente tirato fuori bene da questa entità, cioè Super J, meritava attenzione, mi scusi Presidente Antelli, ma probabilmente a sbagliare valutazione nella lettura di questa vicenda non è certamente la parte giornalistica, ma è lei. Perché glielo dico in televisione? Perché due o tre volte ho provato a chiamarla, non l'ho ascoltata, non ho avuto il piacere che mi rispondessi e né tantomeno ho avuto il piacere che rispondessi al fatto che correttamente le ho preannunciato quello che rimane essere un atto dovuto, e cioè dirle in televisione quello che non sono riuscito a poterle dire a voce. Cosa che auspico. Ultimo appunto. Non più tardi di ieri lei ha diramato un comunicato stampa nel quale ha riportato i brillanti risultati dell'ultimo consuntivo d'esercizio dell'azienda che lei presiede. È ovvio che ne siamo contenti ed è ovvio che ne abbiamo dato notizia. Bisogna soltanto trovare un po' di equilibrio, quello che noi crediamo di avere e di avere sempre avuto e che contiamo di continuare ad avere in futuro. E mi auguro che anche per lei sia così.